Siamo con il sindaco di Grosseto, Anton Francesco Virelli Colonna. Oggi è una giornata importante per Grosseto perché si parla di rigenerazione urbana e lo si fa attraverso un progetto Pop-up Lab che da questo momento in poi entrerà nel suo vivo. Sì, è un progetto molto importante, portato avanti e ideato dal mio assessore alle attività produttive Riccardo Ginanneschi con un forte cofinanziamento della regione toscana per attivare tutti quei percorsi di incremento della popolazione di impresa quindi conseguentemente anche della potenzialità di creare occupazione all'interno del nostro centro storico che per noi è il cuore pulsante dell'economia, della città e che vorremmo a tutti i costi rivitalizzare. Abbiamo avuto oltre 30 manifestazioni di interesse, abbiamo una disponibilità da parte dei proprietari dei fondi sfitti di circa una quindicina di fondi che dovranno essere comunque incrementati in questi giorni perché abbiamo il tipico caso in cui la domanda è superiore all'offerta, quindi c'è grande interesse del mondo dell'impresa adesso bisogna rispondere come proprietari dei fondi sfitti per andare incontro appunto a questa importante opera di riqualificazione e di rigenerazione urbana perché laddove una città viene vissuta ovviamente c'è meno criminalità e meno pericolo di criminalità. Non coinvolte soltanto le entità commerciali ma anche le associazioni che riguardano sia il volontariato che la cultura questo quanto può incidere affinché ci sia davvero questa rivitalizzazione del centro storico? Per esempio Fondazione Grosseto Cultura è un partner molto attivo, la comunicazione viene fatta attraverso di essa ma anche l'organizzazione eventistica culturale, quindi l'attrazione turistico-culturale diventa un elemento fondamentale di propagazione di questo interesse che deve avere come ricaduta appunto quello di creare occupazioni, di creare imprese di creare popolazione all'interno del centro storico, quindi l'attività delle associazioni anche non di impresa le associazioni culturali diventa fondamentale all'interno di un contesto sinergico che trova nelle sue varie maglie delle catene e una forza importante che messa in sinergia crea una dirompenza che crediamo potrà avere grande efficacia nel nostro futuro. In compagnia dell'assessore al commercio Riccardo Ginanneschi che sicuramente da questo bando riuscirà a trarre qualcosa di molto utile soprattutto per quello che riguarda non soltanto le attività commerciali ma anche la cultura e non solo. Questo è l'auspicio ovviamente, i presupposti ci sono perché ovviamente le manifestazioni di interesse che ci sono state sono numericamente anche importanti, diciamo anche dal punto di vista della natura sono anche interessanti e quindi fanno ben sperare in questo. Ovviamente il pretesto è quello della rianimazione dal punto di vista delle attività non solo commerciali ma di altra natura anche artigianali e di natura servizi professionali eccetera. 16-17 novembre ci sarà un'apertura contemporanea di tutti gli esercizi e le attività che saranno premiate e faranno parte del progetto. Ovviamente è un format che è stato utilizzato in altre realtà toscane. Le zone interessate saranno in prima battuta quelle, diciamo, limitrofe al comune di Grosseto. Parliamo di via Garibaldi, parliamo di piazza Martiristia. Ciò non esclude che il tutto possa svilupparsi anche in altre strade. Noi abbiamo individuato quelle perché sono quelle vie che hai già elencato tu e che sono quelle che nascevano storicamente come vie commerciali del centro storico ma hanno subito nel tempo un'evoluzione in negativo in questo senso. Non esclude però la presentazione da parte dei proprietari di altre vie ovviamente all'interno del perimetro della cerchia muraria la presentazione della propria manifestazione di interesse e quindi non esclude che noi prendiamo in considerazione altri fondi di altre vie. Dottor Tombari, da questo punto di vista oggi Grosseto Cultura entra nel vivo del progetto Pop-up Lab perché sarà l'entità coordinatrice di quelli che sono i progetti naturalmente culturali. Questo cosa significa nello specifico? Significa innanzitutto una mano operativa perché essendo una fondazione con maggioranza pubblica però una fondazione di diritto privato abbiamo più facilità rispetto a un ente pubblico di portare avanti le risorse e di distribuirle. Per cui c'è anche un lato operativo diciamo dall'altro sono gli eventi culturali che noi durante tutti i 365 giorni dell'anno cerchiamo di mettere in campo importanti eventi culturali per la città di Grosseto e per il centro storico in particolare. Ricordiamo che due dei nostri istituti Clarisse Arte e Museo di Stato Natale sono nel centro storico per cui noi su quelli puntiamo molto in particolare nella settimana di presentazione ma durante poi tutti i cinque mesi di sperimentazione di Pop-up Lab cercheremo di arricchire il panorama culturale della città con eventi importanti. Quanto sarà importante avere anche le prime opere della collezione Luzzetti in questo progetto? Tantissimo ma questo è un progetto globale che l'amministrazione sta portando avanti ovviamente ognuno fa la sua parte fondazione con la collezione Luzzetti ma penso anche al ritorno della Kelliana insomma è veramente un percorso non facile un percorso sarà un percorso fondistico e dunque non da scattista dove tutti noi compresi le associazioni culturali, le associazioni di categorie dobbiamo veramente dare una mano per portare avanti idee ed eventi per la città.